Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo il quarto episodio della vita reale su GTA V, stagione 1 Prima che iniziamo io vi dico di iscrivervi al canale, lasciate un bellissimo like Comunque, entrammo in macchina, per chi vede la macchina è un po' cambiata perché ho cambiato il colore Che prima non mi piaceva, ho messo il nero carbonio Ehm, grazie comunque Comunque sto dicendo, ho messo il nero carbonio E poi, adesso qua andiamo a farci il tatuaggio, come avete visto dal titolo Comunque, grazie a tutti per le visualizzazioni di Among Us insieme ai miei amici Che il giorno prima ha raggiunto 200 visualizzazioni Poi, il giorno mi ha fatto 300 No, 294, però vabbè, sono i 300 Comunque Verde E cammino Andiamo a vedere pure che tatuaggio potrei fare da questo qua Andiamo a vedere pure che tatuaggio potremmo fare insieme Comunque Arriviamo io Grazie per il supporto dove mi sto dando, fatevi arrivare i 150 iscritti Che ci Vedo l'ora che ci arrivo, anche i 200 però Facciamo 150, va? Che meglio Ok, 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 è possibile ci bisogna arrivare dentro Dopo due settimane Ok, giriamo Pur un po' notte Ma dove dovrei cambiare ancora il colore? Che secondo me la notte La notte La notte che buia è questa macchina Che tutto, l'ho fatto tutta nera Però Se poi vedo, se voglio modificarla Perché avrei un po' delle cose Io Non faccio butta nera Butta nera Dunque È verde, è verde Vabbè Ok, andiamo È rosso Dobbiamo uscire qua Ok Ma te l'ho stardotto qui Ok Dovevo andare dritto Ma comunque iscrivetevi al canale di MrClick45 E di GaX che si chiama XX GRK-G4EXX E GaX ne arriva di 3 iscritti Invece Stefanic 1 arriva di 20 E infatti iscrivetevi tutti ai loro canali Dunque Adesso stiamo Un chilometro manca Non possiamo andare veloci quando vogliamo Ok Ma comunque nello stesso episodio Ho comprato Questa macchina La Tesla Non è proprio la vera Tesla Però sembra una Tesla Perché non ha il motore elettrico Alla fine Non fa rumore Come la macchina davanti a noi O la macchina che vi è a fianco Comunque Vediamo Oddio Quello là corre però Ok Ok Puoi ca 900 metri Alla destrazione E Eh Oh Sì come farlo elettrico Beh Boh Goddia Io lo parlo Lo sciparri pure tu Goddia Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.